Il primo tempo secondo me mi ha nominato noi, loro hanno fatto l'unico team in porta pericoloso con una grande parata dal nostro portiere. Il secondo tempo come gran squadra forte abbiamo sofferto, comunque vittoria meritata secondo me. Gli abbiamo regalato il campionato perché hanno fatto gol sull'unica occasione in 180 minuti, su un errore nostro. Abbiamo attaccato 180 minuti, abbiamo creato più di 10 palle gol, non l'abbiamo buttata dentro e il calcio è questo, vince chi segna e noi gli abbiamo regalato il titolo per un nostro errore.